Sono io qui con te Non preoccuparti, passerà tutto Dei che non vada Vieni, faccio un piccolo massaggio alle tempi Mi spiego meglio Pensa, pensa, concentrati attentamente Carlotta ASMR Eccoti Vieni Vieni, 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 vieni Ti faccio passare il mal di testa Vieni, vieni, vieni qui Mi avvicino un po' Allora, come stai? Sì Lo vedo, hai gli occhietti un po' spenti Però succede, insomma Non preoccuparti Adesso ci sono io Ci sono io Qui con te Dimmi un po' quando è iniziato questo mal di testa Con il caldo Ok Ok Capisco Capisco Perfettamente Allora Intanto dimmi se Questo angolino che ti ho preparato È comodo Molto bene Molto bene Allora Aspetta perché Stavo finendo Di mandare una mail Magari può essere rilassante Aspetta un minuto L'ultimo L'ultimo Si Certo certo puoi prendere l'acqua bene ok scusami stavo veramente finendo di mandare questa mail stavano aspettando la mia risposta da giorni allora hai bisogno di qualcosa per tenersi i capelli bene lega i capelli in questo modo raccogli dietro la testa di modo che tu possa poi straiarti non farlo non legarli non raccoglierli troppo in alto piuttosto in basso verso la nuca di modo che quando ti straierai poi non andrai a spattere esatto può darti fastidio tieni ma come ti senti voglio vedere voglio un attimo vedere se se hai la febbre lega lega pure i capelli non preoccuparti passerà tutto adesso rimuoviamo insieme la pellicola che rimuoviamo insieme Tieni No, non hai la febbre Fammi vedere come vanno le pupille E che non vada Ok Ti rilassa, seguire la luce E seguile allora Seguila, 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 seguila Seguila, seguila, seguila O meglio, certo perché è rilassante, distendi tutti i muscoli, per favore, lo sai che sono un'esperta in questo nonostante non sia il mio mestiere, rilassa tutti i muscoli del tuo corpo. E quando respiri, pensa ad immagazzinare ossigeno, energia positiva e a buttare via quella negativa, ok? Vieni, faccio un piccolo massaggio alle tempi, pensa a cose belle, solo a cose belle, solo a cose belle. Più lentamente, ok? Scusami. Ok, se premo qui, come stai? Benissimo. Benissimo. Un po' più veloce, ok? La rotazione, infatti, il movimento circolare delle dita sulle tempie è rilassante, molto, molto, molto rilassante. Ok. Se è già meglio, mi fa piacere. Ok. Poi ho un metodo infallibile alla fine. Bene. Adesso che ti posso fare? Non lo so, secondo me. La cosa che posso farti è questa. Andiamo subito con il metodo infallibile. Ti do questa cuffia, la vai a mettere in testa e stringi con un gancetto, tiri, fai un pochino di pressione senza esagerare. Non ho un berretto purtroppo, un cappello con la visiera. Stringi un po' e di modo che tu sia ben, tu abbia la pelle e quindi i vasi sanguigni, diciamo, un po' sotto pressione, leggeramente, senza esagerare. Già vedrai che andrà un pochino meglio perché è quel tipo di mal di testa. Tieni. Ok. Poi aspetta. Ok. Cercare una cosa. Non è qui. Forse è qui. Scusami. Ecco l'ho. ho altri due piccoli metodi semplici dove stai? bene bene io penso sinceramente e qui arriviamo all'ultimo metodo che è il modo migliore per farsi passare il mal di testa sia quello di meditare quindi dedicati questi minuti che io sto dedicando a te per meditare ma non nel senso come dire più classico del termine vorrei che meditassi sul tuo mal di testa mi spiego meglio pensa pensa concentrati attentamente sul tuo mal di testa e pensa che vuoi che sparisca solo tu ha il potere ha il potere di farlo passare concentrati su la testa che pulsa e pensa che vuoi che smetta la testa non so se conosci non so se conosci la legge dell'attrazione non funziona proprio così ma più o meno il principio molto per sommi capi è questo quindi basta pensa a cosa vuoi che accada senti la testa senti la testa che pulsa e lascia andare tutto lascia 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 andare lascia andare lascia andare il dolore e al posto del dolore prendi forma la pace e il relax molto meglio ok molto molto meglio sono molto contenta resta così segui il mio dito seguilo seguilo non avrai bisogno di farmaci respira profondamente ti sta aiutando la cuffia mi fa piacere qui è qui passa 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 tutto passa tutto passa tutto c'è 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 respira e sorridi respira e sorridi respira e sorridi benissimo stai anche guidando gli occhi molto bene lasciati andare al relax chiudi pure gli occhi chiudili bene così benissimo resta pure così quanto vuoi com'è? è sparito missione compiuta allora